ma salve pomegranini qui o io come annunciato su instagram ed il server discord melogranoso che potete trovare tra i vari link di link 3 la settimana full haven quindi dal lunedì al venerdì è ufficialmente partita con lo scorso video il sabato per chi fosse interessato invece verrà dedicato a Deides e la domenica tornerò alle mie solite incombenze da archivista ogni tanto bisogna bisogna tornare a mettere a posto cose sistemare cavi quei cavi e magari mi potrò anche riposare un po' detto ciò e con questa bellissima immagine in realtà non saprei come definirla statico non proprio vabbè dei nostri due protagonisti iniziamo subito continuiamo per chi se lo stesse chiedendo sì l'altra volta erano seduti entrambi sul divanetto lì dietro e per una questione di caricamento della partita di comunque caricamento dei salvataggi mi ha fatto ricominciare dal più o meno incubo ok da quando in realtà entrano nuova nel nido e appunto poi c'è l'incubo di Yu eccetera 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 poi sistemano il nido il giorno il giorno seguente solite cose però questa volta sono appunto seduti qui al tavolo giustamente giustamente hey you never told me what did your make look like eh i don't know didn't you get our file from the matchmaker yeah i did but i never really looked at it seriously you're not even curious well no i already knew you whatever come on we'll look at it together if you wish huh oh all right any other pictures yeah hmm 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 she's kinda cute you think so yeah definitely don't you i don't know too much makeup i think i like a more natural look like yours hey hey hmm do you really think this mane comes with that maintenance um come on let's check our profile instead of this foolishness let's see interests reading music having a drink with my friends wow do you think you can handle such a strong personality that's harsh job ocean biology research assistant at the university of ox huh okay looks like you two were made for each other no one is made for each other that's the kind of rhetoric the matchmaker uses yeah yeah i know but it still looks to me like that was a bloating good pick you'd make a great couple might have made there's a difference un po' di lore un po' poca poca però c'è almeno qui what if we grab the little snack for the road mhm sounds good I'll bring the first aid kit as well just in case eh sì noi andiamo così anche perché è tutto quello che possiamo portare la hm 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 oh oh did it move no i don't think so balding blunt oh it's over it's not going back straight we'll never be able to fix it we are condemned to living on an incline in a broken ship forever until our body adapts and one of our legs start shrinking to even us out what's the issue exactly what's the issue exactly well the back pain will be crazy for one and also i don't know about you but i personally like having a reasonably symmetrical body i meant with the tractor globe ah not enough power it seems like the battery drains out even before lifting the nest a centimeter off the ground all that to be fair it was originally designed to lift cargo crates into ships not the ships themselves what if we plugged it into a flow spring i thought about that but we'd have to be able to seal the pipe shut unfortunately i don't think they make gaskets for flow springs from a distant planet perhaps we can make one with what paper mache remember yesterday when i told you that rust scatters when it comes in contact with flow we could use that feature to sculpt the gasket out of pieces of rust you could do that i don't think i could sculpt a new statue of you or a super complex component but molding a gasket that seems doable that's awesome hold on let's not start pushing before the panties are pulled down excuse me you've never heard of that saying no must be a true thing then that means let's not celebrate before we yeah yeah i got it anyway how much rust you need in order to pull the panties down hey hey uh no four or five blocks like those we already got okay so let's try and find that i think we've got everything we need to mold a joint for the tractoglobe all right then ready when you are i'm just waiting on you i can't wait to get going okay what okay ya you go I scared them Another one We're gonna get stuffed Sorry, I kind of missed my- We'll do better next time This way is also full of rust Not for long Comunque Abituatevi anche Non solo alle varie scenette Ma soprattutto anche a questi I think that's enough rust To cobble up your tractor-globe joint Are we leaving then? Ready when you are Alle battutine tattiche Perché Ne faranno molte Io personalmente Mmm Le trovo sì carine Ci stanno Perché caratterizzano Alla fine I personaggi Però molto spesso Sono anche un po' troppe I personaggi I personaggi I personaggi Che vuole I personaggi Sì, ogni tanto la telecamera va un po' a farsi benedire quando si vira. Però... esattamente si possono evitare, però non li eviteremo, anzi. La parte... RPG. Sì, appunto ci sono alcuni... Alcuni genici. Che hanno... Vanno io soltanto con o l'impatto o solo con le bombe. C'è un patato. È meglio. C'è un patato. C'è un patato. C'è un patato. Vedo! C'è un patato. Ma, hai. Non, 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 è un patato. Seppure il patato. Sì, non, è un patato. ok però a noi manca un'altra porzione di pianeta da sistemare sono sicuro che conosciamo qui? credo 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 oh ah oh ah 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 eh volevo prenderlo in realtà alle spalle and more rust you can never have too much want to trade places as you wish do you see what i'm seeing what straight ahead an aerial flow thread oh yeah do you think it could carry us all the way up there only one way to find out do we still need rust of course it's always useful to 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 all the way up we'll have to lay off the apple dues then another thing from home how many to 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 Ok, non c'è una No Ah eccola Era l'ultimo Ero a tornare uno sotto Ero a tornare uno sotto Questa zona non dovrebbe avere nemici Quindi Si ripulisce e basta Nooo Hai sentito questo? Come una tremor No, non ero attenzione Ho spero che l'ho immaginato No 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 Ops. Ops. Can you keep up back there? Are you kidding? I have to go in slow motion Ups, non dimenticato Visto che abbiamo un po' di vita giù How do you feel? Better Opla Queste motion tattiche, queste piccole scenette non servono solo a caratterizzare i PG ma servono a pollare un po' di vita Pollare no, dare un po' di vita E' un po' di vita 3 Oh uh . Uh U Who? What? I told you I'm not going back Go bloot, your selves U It's me infatti per ora non utilizzerò le cure ma anzi cucinerò qualcosa se non ricordo male puoi cucinare un solo pasto e poi lo mangiano direttamente quindi dipende da che cosa è stato trovato in realtà un po' Sì 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 Ma Prima di Andare a dare un'occhiata A quell'aggeggio Che sta Cercando di Vestare Questo Animale Mostro Quello che è Io vi lascio con Un po' di suspense E Andrò a curare ovviamente i nostri Protagonisti Sì Sì Mi scusi signor Animale Tattico In mezzo io starei cercando di concludere il video in ogni caso vi lascio qui alla prossima con l'animale che compenetra ok e se ne va ok